Su Nadal e Borocano è tornato a notare questa buona novella e che non fette sanare a noi tutto dai gusti del virus che tanta gente ha morto quando penso a tempo di bruno che è una d'arve e casina ma guiara con tanta gioia a essere regalita come non si pensa che a sabandini e già due anni, già sono passato tutto il mondo già si è arrabbiato ma lo governo è tirannia va bene a confronto, vivezza e allegria e cantalotta noi siamo fatende e questo già si è nessuno rientro che è arrivato a sua vigeria ponele conto a tutti sa compagnia e intanto passano dieci mesi e anni torri in deceno a tempo di bruno che vogliono imparare questa sera vigeria che è giù no, di fuggire la gira come non esistono i dottori e i dottori solo ignoranti che è giù no, tu come in tala ingrazzare il suo culo a su ricco e pesano tra la segna di afflitto come in tala ingrazzare il suo culo a su ricco su vizio e su babbo chi non sa da ogni malanno e sa zente a tornare a gioire e su drivagli nottenza mai fine e sa famiglia si dovrebbe a unire con tanto affetto può allo sa venire e a sperare che ogni messo nel fetto di ognuno sovrò più dovere chi il suo dottore pensera curare e il suo politico a governare e il suo dottore pensere grazie a tutti